Musica Effettua una manovra veloce in retromarcia senza fare attenzione e investe con violenza un anziano 82enne che cade sull'asfalto battendo la testa, poi riparte senza soccorrere la vittima e si dilegua per le vie circostanti. Poteva avere conseguenze più gravi l'incidente accaduto questo pomeriggio poco dopo le 16 all'incrocio tra via Marche e via Calabria nel rione Commenda di Brindisi. DS, anziano 82enne, stava percorrendo tranquillamente l'incrocio quando un'auto, nell'effettuare una manovra in retromarcia, non si sa se uscendo da un parcheggio o per superare un ostacolo sulla carreggiata, forse non accorgendo se ne ha colpito violentemente l'anziano che in seguito all'urto è caduto rovinosamente sull'asfalto battendo con forza la testa. Subito dopo il conducente dell'auto pirata, invece di fermare il motore e scendere a soccorrere l'anziano, ha accelerato per allontanarsi dal luogo dell'incidente. Alla scena hanno assistito due persone, un uomo e una ragazza, che hanno subito soccorso l'uomo ma non sono stati poi in grado di identificare il modello dell'auto pirata. Hanno comunque raccontato che alla guida c'era un giovane con capelli scuri e corti che indossava un giubbino nero. I due testimoni hanno chiamato il 118, i sanitari una volta arrivati sul posto hanno trovato l'uomo cosciente e lucido ma dato il colpo in testa hanno deciso di trasportare comunque il ferito in ospedale per accertamenti.